Al signor Graziano Piazza chiediamo il significato della parola ebris. Ebris. È una parola, appunto, come dicevo, difficile da pronunciare, ma in realtà ha delle possibilità di interpretazione meravigliosa. Direi che in maniera molto semplice io la chiamerei tracotanza. Tracotanza, cioè qualcosa che ci spinge anche a una sfida agli dei, o una sfida a se stessi, a qualche cosa che vada oltre la nostra vita quotidiana normale, ma che ci porti invece in un territorio che noi non conosciamo e che però ci sentiamo di voler compiere con grande coraggio. La Jules è, secondo me, legata chiaramente a tantissimi personaggi dell'epoca classica, ma anche a tanti eroi dell'epoca anche, diciamo, moderna. Ma la ritroviamo in noi stessi ogni volta che facciamo un atto che in qualche modo ci supera, supera noi, che ci fa andare oltre noi stessi. Ed è, secondo me, in un senso negativo, una sfida di dei come per volersi sostituire a Dio o agli dei. E quindi io e gli dei faccio vedere che sono meglio di te, in un certo senso. Però invece in un'accezione più, come dire, non negativa, ma anzi in un'accezione positiva, ha la possibilità di indicarti un superamento di se stessi che ti faccia andare a vivere con, come dice Battiato, con nuove velocità e in nuovi campi. Franco Battiato, il cantatore, come se potessimo veramente correre a velocità supersonica e potessimo quindi andare veramente in campi che non conosciamo, in mondi che non conosciamo. Per cui è un grande impulso, è una grande occasione, fuoco. È qualcosa che ti suscita, qualcosa che ti fa agire, è una necessità, è un fuoco, è un'emergenza. È qualcosa che ci fa conoscere, è qualcosa che ci fa mettere nelle condizioni di far sì che l'uomo, per iubris, possa pensare di andare sulla luna. e quindi Sirano de Bergerac, quando scriveva il suo libro degli imperi della luna, proprio Sirano de Bergerac, immaginava queste ampolle che lo facevano andare sulla luna con una specie di cosa magica che per andare, e invece in realtà ci siamo arrivati. perché l'uubris è anche una direzione, un obiettivo, una possibilità di mantenere la nostra rotta costante. Grazie! Vero? Grazie.